Ciao ragazzi, in questo e nei prossimi quattro tutorial parleremo di formattazione condizionale, uno strumento che permette di evidenziare rapidamente informazioni importanti in un foglio di lavoro. Vedremo che è possibile mostrare la classificazione delle singole celle rispetto a un intervallo di valori mediante barre di dati, scale di colori e set di icone. Successivamente impareremo ad applicare alle celle colori che corrispondono a condizioni specifiche, ad esempio valori duplicati o valori che soddisfano determinati criteri. Impareremo poi a gestire e a cancellare le regole. In questo video trattiamo la formattazione condizionale a barre di dati ed impariamo a modificare le regole di formattazione predefinite di Excel relative a questa categoria. Iniziamo! In questo file sono riportate le tabelle alimentari relative a 100 grammi di prodotto dei vari tipi di frutta e verdura. In tabelle di questo tipo è molto difficile individuare le proprietà alimentari dei vari tipi di frutta e verdura, poiché i dati sono puramente numerici, ma applicando una formattazione condizionale, nel nostro caso a barre di dati, ci si rende immediatamente conto che la banana è il frutto più calorico e che, ad esempio, il melograno ha un alto contenuto calorico, ma anche di carboidrati, di zuccheri, di proteine, di grassi e di fibre, mentre l'anguria è a basso contenuto calorico e contiene quantità ridotte di tutti i nutrienti elencati in precedenza. Questo accade perché l'occhio umano è molto più attratto dai colori e dalle forme, piuttosto che dai numeri, che visivamente sembrano tutti uguali. Come possiamo notare dal nostro esempio, Excel crea una barra in ogni cella, la cui lunghezza corrisponde al valore della cella rispetto alle altre celle nell'intervallo selezionato. Nella tabella qui a sinistra ho utilizzato barre di dati con riempimento sfumato, mentre nella tabella di destra ho utilizzato barre di dati in tinta unita. Vediamo ora come si procede quando si vuole inserire in un intervallo selezionato una formattazione condizionale. Innanzitutto, visto che l'ho già inserita, vediamo come si fa a cancellare una formattazione condizionale. Dalla scheda Home, nel gruppo Stili, clicchiamo su Formattazione condizionale e poi su Cancella regole e selezioniamo Cancella regole dalle celle selezionate. Immediatamente le barre di dati scompaiono. Se volessimo invece eliminare la formattazione condizionale dall'intero foglio di lavoro, dovremo selezionare Formattazione condizionale, Cancella regole, Cancella regole dal foglio intero ed immediatamente ogni formatazione condizionale scompare. Annulliamo ora le ultime operazioni effettuate e vediamo una proprietà importantissima della formatazione condizionale che è la sua dinamicità. La formatazione condizionale è infatti dinamica, cioè viene modificata automaticamente al variare dei valori. Ad esempio, se io qui scrivessi 150 e facessi invio, immediatamente la colonnina relativa dal bicocche sarebbe la più lunga di tutte e le altre verrebbero ridimensionate di conseguenza. E anche la colonnina relativa alla banana, che come ricordate era la più lunga, ora non lo è più. Annulliamo di nuovo questa operazione e vediamo come si inserisce una formatazione condizionale. Innanzitutto è necessario selezionare l'intervallo che vogliamo formattare. A questo punto si va nella scheda Home e si clicca su Formattazione condizionale. Selezioniamo barre di dati e il colore desiderato. Come possiamo vedere osservando l'anteprima, sono disponibili vari colori, sfumati e anche in tinta unita. E quando facciamo scorrere il mouse di essi, abbiamo già un'anteprima del risultato. Selezionando poi altre regole, abbiamo la possibilità di intervenire e di modificare molti altri parametri. Ad esempio, possiamo mostrare solamente la barra e non più il valore numerico. Oppure, possiamo anche scegliere colori che non ci sono nelle anteprime. Ad esempio, potremo scegliere un viola, in tinta unita oppure sfumata, scegliere di mettere un bordo, magari di colore rosso, e poi decidere se far partire la barra da sinistra, come nel nostro esempio, oppure da destra verso sinistra. Vediamo anche quest'altra opzione e diamolo OK. Come si può notare, le barre sono di colore viola, in tinta unita, col bordo rosso, e partono da destra verso sinistra. Analizziamo ora altre opzioni. Consideriamo la seguente tabella, in cui sono riportate le temperature rilevate ad ogni ora del giorno in una località di montagna. Come si può notare anche in questo caso, i dati numerici sono abbastanza difficili da leggere con un semplice sguardo, e dunque proviamo a applicare una formatazione condizionale. In questo caso, vi faccio notare che ci sono anche dei valori negativi. Applichiamo di nuovo una formatazione condizionale barre di dati e andiamo subito su altre regole. Per il momento lasciamo il valore numerico e utilizziamo ad esempio un colore verde per i valori positivi, in tinta unita e con un bordo continuo di colore nero. Siccome però ora sono presenti anche valori negativi, dobbiamo andare su valore negativo e asse. Possiamo decidere di riempire con un colore rosso, mettere un bordo di nuovo nero e mettere un asse automatico ancora di colore nero. Diamo ok e ancora ok. Come si può notare, le temperature negative compaiono a sinistra dell'asse e di colore rosso e le temperature positive a destra dell'asse di colore verde. L'asse è quella sottilissima linea tratteggiata di colore nero. Siccome di solito le alte temperature vengono indicate in rosso e le basse temperature in azzurro, modifichiamo queste impostazioni. Selezioniamo di nuovo l'intervallo e a questo punto abbiamo due opzioni. Possiamo cancellare le regole e reimpostarle oppure direttamente modificarle. Decidiamo di modificarle. Per farlo, clicchiamo di nuovo su Formattazione condizionale e su Gestisci regole. Selezioniamo la nostra regola e clicchiamo su Modifica regola. A questo punto non dobbiamo far altro che selezionare il colore desiderato, ad esempio il rosso per le temperature positive e impostare le barre relative ai valori negativi con il colore azzurro. A questo punto, per evitare di visualizzare l'asse, possiamo colorarlo di bianco. Vi faccio inoltre notare che l'asse potrebbe essere messo nel punto intermedio della cella, cioè proprio al centro della cella in orizzontale, mentre se non selezioniamo questa opzione ma lasciamo su Automatico, l'asse si posiziona in base ai valori presenti nelle celle. Infine, se selezionassimo l'opzione Nessuno, anche i valori negativi verrebbero riportati a destra dell'asse, come i valori positivi, ma di colore diverso. Come al solito, vi consiglio di sperimentare le varie opzioni personalmente. Diamo OK. E ancora OK. E di nuovo OK. Come si può notare, ora le temperature positive sono in rosso, quelle negativi in azzurro e non è presente l'asse, poiché l'abbiamo colorato di bianco. Sicuramente vi sarete accorti che per il momento io ho evitato di trattare alcune opzioni presenti in questa wizard e mi riservo di farlo nei prossimi tutorial oppure nel corso Excel avanzato. Le opzioni sono quelle presenti alla voce Minimo e Massimo. Come al solito, vi invito però, se volete, a sperimentarle personalmente. Prima di concludere, vi voglio elencare gli errori da non commettere quando si applica la formattazione condizionale. Un primo errore molto comune quando si vuole applicare una formattazione condizionale ad una tabella è quello di selezionare tutta la tabella, per poi andare su Formattazione condizionale, Barre di dati e applicare una formattazione condizionale. Come si può notare da un confronto con la tabella precedente, la prima colonna è esatta, poiché contiene valori molto elevati, mentre le altre colonne risultano molto schiacciate, poiché Excel confronta i dati di tutta la tabella e dunque, ad esempio, un valore 1,4 è molto piccolo rispetto a un 48 e la colonnina risulta molto schiacciata. Attenzione dunque! La formattazione condizionale va applicata colonna per colonna. Oppure, se volessimo evitare di perdere tempo a formattare in questo modo, potremo applicare una prima formattazione condizionale e poi utilizzare il pulsante Copia formato. Cliccando due volte su di esso e poi cliccando nelle colonne successive della tabella, la formattazione verrà applicata correttamente. Per disattivare il pulsante Copia formato, è necessario cliccare ancora una volta su di esso. In questo modo, siamo riusciti a applicare una formattazione condizionale senza badare troppo ai colori, ma comunque questa formattazione condizionale è esatta. Un altro errore molto frequente che molti fanno quando applicano una formattazione condizionale è quello di selezionare anche il totale. Così facendo, siccome il totale ha un valore numerico elevato rispetto agli altri valori presenti in tabella, avremo una barra molto lunga in corrispondenza del totale, mentre tutte le altre barre della tabella risulteranno schiacciate e dunque una formattazione condizionale fatta in questo modo non mette bene in risalto i valori presenti in tabella. Come possiamo notare infatti, confrontando le due tabelle, la formattazione condizionale di sinistra ha un impatto visivo molto più immediato. Un ultimo errore che molti utenti compiono è quello di dimenticarsi di cancellare le formattazioni condizionali errate. Ad esempio, questa formattazione condizionale che è imprecisa può essere sostituita da un'altra formattazione condizionale, però è opportuno eliminarla utilizzando l'opzione Cancella regole dalle celle selezionate oppure andando in Gestisci regole, selezionandola ed eliminandola, poiché, quando ci si dimentica di cancellare le regole di formattazione condizionale, qui in Gestione regole, potrebbero comparire molte regole e le versioni di Excel precedenti alla 2007 non supportano più di tre regole, quindi le nostre impostazioni di formattazione condizionale potrebbero non funzionare correttamente. Vedremo poi nei prossimi tutorial come è possibile riordinare le regole mediante questi pulsanti oppure eliminare le regole inutili, utilizzando anche l'opzione Interrompi severa se non vogliamo che le formattazioni condizionali successive ad una formattazione condizionale specifica vengano lette. Per il momento, ci limitiamo a correggere l'intervallo in cui la formattazione viene applicata, correggendo il 16 con un 15, in modo che la formattazione condizionale sia applicata solamente ai mesi e non al totale. Cliccando su Applica, abbiamo già un'anteprima del risultato. Come possiamo notare dal confronto con la tabella di sinistra, ora la formattazione è esatta e possiamo confermarla con l'OK. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video parleremo di formattazione condizionale con scale di colori. Vi aspetto! Ciao! Ciao!